Ieri il rogo violento, distruttivo, che si è letteralmente sbranato un pezzo di storia di Treviso. Oggi la Procura ha aperto un fascicolo per ipotesi doloso contro i gnoti, zona che di conseguenza verrà posta sotto sequestro. Abbiamo aperto un fascicolo contro i gnoti, questa è meno l'ipotesi di partenza, l'ipotesi di lavoro. Adesso cercheremo di sviluppare l'attività di indagine, non appena l'area sarà messa in sicurezza da parte dei vici del fuoco. Ad originare il rogo sembra sia stata la presenza all'interno dell'edificio di 14 siros di legno. Quando potremo spostare le macerie, potremo forse avere le idee più chiare, verificheremo l'eventuale presenza di liquidi acceleranti o l'eventuale presenza di più punti di innesco che potrebbero giustificare l'ipotesi appunto di reato doloso. Ed ecco quel che resta dell'ex opificio della Chiare Forti che lascia tutti i sgomenti senza fiato. Al posto della fiamme, la nube nera, la profonda voragine di quasi tre metri. E dopo il fuoco, un'intera notte trascorso di vigili del fuoco a spegnere l'incendio, la torre, completamente annerita da una spessa coltre di cenere, ancora fuma. C'è questo dato di questo incendio particolarmente violento, che ha coinvolto immediatamente tutto l'edificio dal piano terra al sesto piano. Edificio a rischio crolle, per questo pronta l'ordinanza di chiusura del sindaco per l'intera zona. La struttura sì, quando si raffredda si muove, quindi bisogna usare tutte le cautere necessarie del caso perché potrebbe esserci qualche altro cedimento. Pesanti le accuse mosse dal professionista incaricato del progetto di recupero della Chiare Forti, che però non crede nell'ipotesi dolosa. Questa era un'area fatta oggetto da bande di delinquenti organizzate che hanno depredato quello che poteva essere depredato. Cioè la cosa più semplice da farsi qui era il recupero in un opificio come questo di tutta la parte dei metalli preziosi. E qui hanno depredato tutto.